In merito al precariato, alla disoccupazione che affligge da tempo la nostra città, interviene l'imprenditore Arialdo Giammusso, promotore del movimento, prima di tutto in Isseni. Secondo Giammusso, emblema di questa mancanza di lavoro è il cimitero di negozi, sia in centro storico che fuori. Nel documento Giammusso afferma Al cimitero di negozi si affianca la necropoli di imprese della zona industriale, ormai priva anche della pubblica illuminazione, con strade dissestate, pulizia e verde pubblico inesistenti. L'imprenditore inoltre sottolinea che anche il tempo libero dei nisseni non può essere occupato perché, a suo dire, non ci sono strutture idonee. La lettera si conclude con uno sfogo di Giammusso, che questa volta non ha dita solo il primo cittadino, ma anche quei consiglieri che, secondo lui, lo sono per mestiere. E assicura che nella lista che alle prossime comunali, prima di tutto in Isseni, presenterà, non ci sarà nessuno, si legge, di questi consiglieri uscenti.